Umberto, oh, ciao Umberto, come va? A te, tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto, io sto frequentando un corso di umiltà. Bala grande, sono il più bravo. E a te? Se vuoi partecipare stasera alle 21, c'è il primo raduno nazionale di A Sociali. Sì, vuole partecipare, e dove? Ognuno a casa propria. Grazie.